manuale ok rallenta in che marcia sei? terza, metti il secondo primo vai giù tutto giù tutto giù tutto no tieni giù il piede così hai capito? ok aspetta eh giù tutto vai cambio io no non cambiare vai vai giù tutto vince vince ok rallenta scala 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 ancora quando? giù tutto giù tutto cambia a 7000 vai 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 prova scala una ferrari di 500 cavalli 560 vai avanti un po vai avanti un po vai avanti un po ti dico io quando sono di partire 60 cavalli ma dove li metti ma è bellissimo cioè io da adesso voglio guidare solo ferrari e la mia amica la vorremmo comprare adesso qua l'altra manina giù fai con la fotocamera amore adesso che fai ragazzi adesso la nita schiaccerà tutto vediamo giù tutto ah vai vai ah 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 ma ah ma Stai pure con la storia Giù tutto Vai 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 Giù tutto Ce l'abbiamo dietro Vai vai Giù tutto Sei pronta? Sì Vado? Aspetta che c'è quell'altra autora Aspetta che c'è una teoria da buscarli dentro Vole che è da 400 km a metà l'ora Come c'è? Eccola Carlita Ferranco Vai Giù tutto Giù tutto Giù tutto Giù tutto Vai 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 Prego 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 Perfetto 220.000 320.000 euro 220.000 euro 220.000 euro Noi la compriamo poco Vai con tanti Vi ha detto Vai pure Eccolo di Marte Carlita Wow Destra Bene Destra qua Destra ancora Vai Mi piace il bene? Sì Hai visto? Bravo Brava Vai pure dritto In fondo c'è una curva stretta a destra Piano Ok Prena Larga Ok E poi stringi Bravissimo Brava Bravissimo Dretto Sparata In fondo vai a sinistra In fondo vai a sinistra Piano piano Brava Sinistra Vai 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 Andiamo E questo va abbastanza forte Questo fai 320 km all'ora A destra qua Questo lo dobbiamo prendere La Carlita shop Lo dobbiamo prendere La facciamo rosa Sì Rosa Carlita La prima Ferrari rosa No c'è n'è una Miami Ah sì? Sì È la moglie di un industriale Dove Sinistra Questa è la nuova gestione sportiva Formula 1 Engineering Bello È la moglie di un Di un Di un Piano 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 Qua Siamo in centro Prova il piano Migliardario americano Destra Destra? Sì Però potresti farla anche tu Poi la metti su YouTube Sì Sì Mi piacerebbe Sai quanti colori Vai piano 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 Perché? Siamo in centro Ah Piano piano Ok Sai quanti follower avrai Se fai il video Proprio da California Soprattutto se giro a Napoli Con questa Non ce l'ha nessuno Sinistra qua 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 Frenda frena frena Frenda Frenda dentro qua Vai dentro Ok Destra Destra Ora? Destra ancora Ah è chiuso Stop Vai indietro Vai indietro Indietro da solo Non credo Vai vai Visto Quando ti ve belli Cambi la domanda Questo di qua Stop Sì Fai di nuovo Ah sì Non ti va niente Visto Vai pure In fondo a sinistra Destra Stop Piano qua Uscire Vai avanti Un pochino Che vediamo Ok vai Piano 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 Sinistra Stop Stop Ok 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 Piano 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 Quanti Piano Piano Grazie a tutti.